Oggi ero un giocatore di Avellino e ci metteremo luta per il prossimo anno come abbiamo fatto quest'anno e speriamo bene. Tre anni a Grosseto e adesso questa esperienza con l'Avellino, anche qui con un tratto triennale, insomma tutte le basi per lavorare serenamente e fare bene. Sì sì assolutamente sì, è stata una scelta mia e ero stato richiesto da alcune squadre, altre squadre della stessa serie però ho deciso di venire qua perché la piazza è molto calda e la società è molto organizzata quindi mi fa piacere questa scelta che ho fatto. Già da ottobre ho avuto alcune richieste da questa società, ci ho pensato e poi ho deciso di venire qua. Anche quest'anno spero si faccia bene come l'anno passato, purtroppo all'ultimo attraversa De Castaldo però hai moltissimo attirante anche contro Bologna.